buonasera ragazzi buonasera innanzitutto prima di parlare della partita c'è stato un malore in campo quando hanno interrotto la partita tra fiorentina intera ad eduardo bove meno male che il ragazzo si è ripreso e gli auguro una buona guarigione a quel ragazzo di 22 anni perché ricordatevi la salute viene prima di tutto detto questo parliamo della partita un altro ennesimo pareggio guarda scusate se ve lo dico per me quest'anno si rischierà di non andare nemmeno in champions certo siamo molto contati in come squadra alla juve mancano troppi giocatori 9 giocatori fuori e siamo contati in squadra una roba vergognosa ho visto allora un primo tempo guarda parliamo della partita ora un primo tempo guarda bloccato diciamocelo alcuni che mancano un possibile rigore ok tutto nel secondo tempo si è sbloccato la partita con la deviazione con il tiro di cambiaso deviato da un difensore del del lecce e gol di cambiaso non è stato togol poi pareggiare come le polli una roba davvero da imbestialire incredibile poi dice uno che non si deve bestemmiare nelle quando una squadra prende gol all'ultimo chi era peggio di mosconi ecco cosa e ringraziamo il cielo che non siamo che siamo ancora imbattuti in campionato ringraziamo il cielo allora ora non so fra i prossimi giorni abbiamo la partita juventus bologna speriamo di recuperare qualche qualche giocatore perché non è possibile andare avanti in questo modo a non azzardatevi a dire una parola su tiago motta eh ha fatto quello che poteva e guai a chi mi tocca tiago motta ragazzi questo per me è un video molto breve perché io lo sto facendo a caldo il post partita e niente altri due punti buttati nel cestino e mi dispiace così non andremo da nessuna parte dico solo questo guardate spero che il mio video vi è piaciuto lasciate un like commentate e iscrizione al canale sempre forza juve nel cuore ciao belli